23 giugno 2017. Muore a Roma il giurista Stefano Rodotà. Nato a Cosenza nel 1933 insegna diritto civile all'Università alla Sapienza di Roma. Oltre all'attività accademica si impegna anche nella vita politica, venendo eletto tre volte deputato come indipendente di sinistra. Pur senza iscriversi è per due anni presidente del PDS, il Partito Democratico della Sinistra, poi è il primo garante per la privacy in Italia. È uno degli autori della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.